In questo video ti voglio parlare un'altra volta di Potri, Potri Converter e voglio aggiungere una cosa riguardo a Potri Desktop. Mi è capitato di fare in passato una serie di tre video che riguardavano l'utilizzo di Potri Converter come strumento per convertire il numero di punti in formato LAS in un pacchetto di file che poteva essere condiviso o meglio caricato da qualche parte e condiviso anche semplicemente tramite link web utilizzando un browser con chiunque a cui tu volessi dare l'accesso alla condivisione o al controllo o all'esplorazione sia quantitativa che qualitativa di una nuvola di punti che avevi prodotto. Quei video riguardavano l'utilizzo in particolare del converter che Potri Converter è uno strumento che prende il file LAS e lo spacchetta, lo spacchettava, lo spacchetta ancora perché esiste ancora come prodotto, come entità nel web scaricabile in una serie di file che dovevano essere caricati online e aveva anticipato il fatto che proprio nel momento in cui registravo quei video stavo registrando quei video era appena uscita la versione 2.0 del Potri Converter dove cambiavano alcune cose e mi ero ripromesso di riparlarne. Lo faccio in questo video anche se in realtà sul Potri Converter 2.0 che in realtà è il 2.1 e sto registrando nel dicembre 2021 c'è poco da dire perché è molto intuitivo, è molto semplice, è molto facile da utilizzare. Vorrei aggiungere però una cosa e spero possa essere utile nell'ottica di condividere dati di questo tipo nuvole di punti che so per certo che per alcuni sono ostici, specialmente per chi non le crea, per chi non le fa, per chi non fa fotogrammetria, per chi non fa laser scanning ma che per chi le riceve, poter condividere questi dati in maniera semplice in modo tale da poter rendere tutti quanti il più possibile in modo tale da poter semplificare per tutti quanti o per il maggior numero di persone possibili la vita nell'ispezione, nella gestione, nell'esplorazione di questi dati tridimensionali. Per cui questo video si dividerà in due parti. Una prima parte in cui ti parlerò brevemente, che poi forse tanto brevemente non sarà perché la sintesi è una tra le mie qualità principali di Potri Converter 2.1 e poi ti faccio vedere Potri Desktop che è un'applicazione che in realtà non la devi installare, è semplicissima, velocissima che ti permette di avere la stessa cosa che hai con Potri senza utilizzare una connessione internet o un browser ma semplicemente caricando la nuova di punti dentro questo visualizzatore che ti permette di avere la stessa esperienza che hai dentro Potri. Iniziamo dal web perché andiamo in pagina nuova quindi andiamo in una nuova pagina e scriviamo Potri. Se io scrivo Potri in una nuova pagina, qua ci sono già un po' di ricerche che ho fatto qua c'è qualche mio video, c'è il video di Giampaolo Beretta che anche lui ha parlato diffusamente di Potri. Allora il primo link che ti ritrovi è il link di GitHub, la repository. Github dove sta Potri, è diventata un po' la casa online di Potri, la repository Github dove puoi scaricare tutto quanto, dove puoi ritrovare tutto quanto, c'è tutto dentro Github e non è un caso che sia il primo link che ti ritrovi, qui dentro ci sono una serie di cose dipende da quanto sei smanettone, da quanto ti trovi bene con questo tipo di file, con questo tipo di risorse, io non lo sono e quindi provo a darti qualche input per arrivare a poter utilizzare questi dati o poter dire a qualcun altro di utilizzarli in questo modo. Vai un po' più in basso, c'è una parte di Readme, qui ci sono file, docs, example, librerie, nuvole di punte, insomma c'è un po' di cose che ti lascio assolutamente tutto il tempo di esplorare. About ti dice perché è nato Potri, che cos'è Potri, brevemente c'è anche un Readme tra l'altro Potri è un progetto secondo me incredibile, tantissimi software commerciali o tantissime soluzioni commerciali si appoggiano a Potri per produrre, per proporre le loro soluzioni. Potri è completamente aperto, è completamente open e qua c'è tutto il codice, ci trovi tutto quanto e sono veramente sempre quasi mi commuovo quando parlo di Potri. Allora qui c'è un Getting Started, cioè inizia, ci sono una serie di opzioni da fare, anche qui io non sono perdente a smanettone, queste cose non le ho fatte e non le faccio e non neanche te le condivido. Vai un po' più in basso e c'è Download, al di là del fatto che ci sono un sacco di esempi per cui ancora prima di andare avanti con la visione di questo video, se vuoi farti un'idea di cos'è Potri, puoi andare a vederti o a navigare qualsiasi di questi esempi e accedi a quello che è Potri e alle possibilità che ti mette a disposizione Potri. Questi sono uno dei punti che sono state caricate online dalla community di Potri, dagli sviluppatori di Potri e sono disponibili per tutti per pastrugnarci e fare un po' tutto quello che si vuole. Torno indietro. Download, Potri, Potri Converter, Potri Desktop. Mi fermo su queste due. Allora, se faccio clic su Potri, quello a cui ritorno è il Potri, che è il vero e proprio progetto open source, che poi è tutto il codice che viene utilizzato come punto di partenza anche per altri sviluppi. In realtà quello che voglio utilizzare io e di quello che ti voglio parlare è Potri Converter e Potri Desktop. Quindi sono qui le due finestre, le ho già aperte. Una volta c'è ancora, non una volta, e questo è anche interessante perché ti dà un'informazione sul codice che devi utilizzare poi per fare alcune cose con Potri Converter. Potri.org era il punto di riferimento iniziale. Esisteva anche in GitHub, però era più utilizzato Potri.org. Adesso si va più su GitHub, però esiste ancora un Potri.org dove ci sono una sorta di informazioni utili a cui potersi eventualmente riferire quando si naviga e quando si cercano informazioni su Potri. Però ora GitHub credo che abbia veramente tutto quello che serve per mettere le mani su Potri. Potri Converter. Potri Converter è un convertitore che fa questo. Prende una nuvola di punti in formato LAS e la converte, lo dice anche il nome stesso, in una serie di file che possono essere utilizzati con il Potri Viewer, il visualizzatore, il famoso Potri che ti ho fatto vedere prima, che è un viewer. Ci sono diverse versioni. Qui dentro c'è tutta la storia dei vari Converter che sono nati, che si sono sviluppati, che ci sono stati con tutte le date. Il video precedenti che trovi forse sul mio canale YouTube o su altri posti dove li ho condivisi si fermavano a Potri Converter 1.0, è uscito e qui dentro trovi la possibilità di scaricare Potri Converter 2.1 per Windows 64 bit i codici sorgenti in formato zip e in formato tarra.gz. Se scarichi Potri Converter 2.1 ti ritrovi un file zip, questo lo chiudo, anzi in realtà quello mi serviva, vabbè, ti ritrovi un file zip che se scompatti, mi metto, spero che tu riesca a vedere la mia finestra, se scompatti ti ritrovi una cartella dove all'interno ci sono questi file qua, una serie di file, DLL, Ritmi e poi c'è il Potri Converter, un file a eseguibile. Non ci fare doppio clic sopra perché altrimenti in questo modo non parte niente, per poterlo utilizzare ci sono due modi. Il primo che è stato implementato nel Converter 2.1 è molto semplice, è semplicemente trascinare una nuvola di punti in formato LAS sull'eseguibile Potri Converter per poterlo applicare, per poterlo farlo partire, per poter fare la conversione della nuvola di punti. Allora, devo un attimo passare all'altro schermo e quindi scusa se guardo un attimo da questa parte. Ok, ho riaperto la finestra che mi sono perso e devo riaprire la regia per sapere che cosa sto facendo. Questa è la nuvola di punti che io voglio utilizzare per, come esempio, da convertire per poter essere vista col Potri Viewer. È una nuvola piccolina, volutamente piccola, così almeno le cose sono molto veloci. Potri Converter 2.1 ha la possibilità di fare questo. Prendi la nuvola, spero tantissimo che funzioni, in realtà prima l'ho già provata, la trascini sul converter, finita. Lui, non so se hai visto, è partita una finestra, una finestra del prompt dei comandi, ti ha creato questo file, questa cartella, nuvola LAS Converter, dove dentro ci sono questi tre file, .b, .json e .bin. Il file .bin è quello che è più consistente, se ci fai caso, ha la stessa più o meno dimensione del file .LAS. Il file che devi utilizzare per poter vedere questa nuvola di punti o col Potri Viewer o col Potri Desktop, anche se in realtà questa te la faccio vedere col Potri Desktop e credo già di stare facendo, di fare, credo che stia facendo già un po' troppo casino con tutte queste cose, è il file .json. È stato estremamente veloce. Questo pacchetto di file, siccome magari quello che vogliamo fare è condividere una nuvola di punti attraverso browser, quindi caricandola in uno spazio che abbiamo online, in questo modo non lo puoi fare, o meglio, lo puoi fare se sai come fare, io non so come fare, quindi mi appoggio alla vecchia sintassi di Potri, che mi permetteva di creare un pacchetto di file insieme a un file dell'HTML, che è quello che poi davo alla persona con cui volevo condividere la nuvola di punti, dicevo vabbè vai a questo indirizzo e questo indirizzo terminava con index ad esempio .html o nuvola .html ed era quello a cui si riferiva, a cui facevano capo tutti i file che avevo caricato sul mio spazio web. Mi sto incartando, non è veramente la mia materia e cerco di spiegartela nel modo più efficiente possibile, anche se ho un po' di dubbio a riguardo. Quindi, come lo utilizzo il Potri Converter per caricare i file online? Lo utilizzo con la vecchia sintassi del Potri, che la vado a riprendere, trovi in Potri.org, è questa qui. Questo è molto comodo, il Potri.org è molto comodo perché qua c'è tutta questa sintassi che tu ti puoi copiare e incollare in un editor di testo, o meglio, non devi incollare su un editor di testo, la devi incollare nel prompt dei comandi, cioè la devi incollare in una finestra di DOS, adesso c'è il PowerShell dentro Microsoft Windows e quindi devi lanciare questo comando che è Potri Converter.exe. Quindi devi andare navigando, adesso non ti navigo, altrimenti vedi tutta... navigheremo nel mio computer e mi è stato detto che forse non è una cosa molto intelligente da fare, vai nella cartella in MS-DOS, vai nella cartella dove è installato, hai scaricato Potri Converter dentro il tuo computer con i vari comandi di DOS, CD, punto punto, CD punto punto eccetera per saltare dalle varie directory e incolli una riga di testo che più o meno dovrebbe essere formata in questo modo, te la faccio vedere su un editor di testo, in modo tale da almeno dirti qualcosa perché altrimenti mi sembra veramente di tirare a fritta. incolliamo questa riga di testo, allora il comando dovrebbe essere questo, te lo spiego, punto slash Potri Converter.exe è il converter quindi devi dare il comando eseguibile. Questa nuvola di punti è la nuvola di punti che tu vuoi convertire, in questo caso dovrei prendere la nuvola, punto LAS, scrivere tutto il percorso a cui si rifà questo file punto LAS per arrivare a scrivere nuvola punto LAS, ora in questo caso sarà C, poi ci mettiamo tutto il percorso di dove è, ho sbagliato, scusa, il percorso, che chiaramente non è tutto il percorso e poi ci metto, credo che sia case sensitive, non ne sono sicuro, nuvola punto LAS, meno O, gli dici dove vuoi che lui ti crei il pacchetto di file che deve essere prodotto per poter essere caricato online, e quindi ci mettiamo tutto il percorso e poi magari c'è una nuova cartella che si chiama cartella, spero che tutte queste cose che sto dicendo abbiano un minimo di senso, meglio ti arrivino in qualche modo per capire com'anni nel DOS, questa è la cartella e poi c'è meno meno generate page che adesso è anche utilizzabile con l'opzione meno P, e poi gli dai il nome del file, ad esempio index.html, oppure potrebbe essere nuvola.html, oppure potrebbe essere progetto.html, insomma quello che vuoi, relativa al file.html che verrà associato a tutto il pacchetto di file che viene creato dopo questa conversione. La fine del processo, quindi se sei nel prompt dei comandi, mandi questo comando, la fine di questo percorso sarà, dopo il calcolo di potriconverter, che in questa cosa è molto veloce, un pacchetto di file che tu prendi e carichi online in un tuo spazio web. Questa parte la salto, come si è andato molto veloce su questa parte e forse neanche troppo esaustivo, perché voglio farti vedere però l'altra cosa che secondo me è ancora più interessante in questa fase, che è il potri desktop, che ti evita di avere uno spazio online, ti evita di avere dei domini online, ti evita di avere altre cose che riguardano possibilità cloud eccetera eccetera, ma che permette alla persona a cui dai il pacchetto di file che hai convertito di vedere quel pacchetto di file in maniera come se fosse un potri viewer, ma può fare anche di più. Il potri desktop, quindi questo non lo salvo, il potri desktop lo trovi sempre qui, potri github, vai qui potri desktop, ti ritrovi in questa finestra, anche qua ci sono varie versioni, varie release del potri desktop, non è un caso che l'ultima release corrisponda all'ultima release del potri converter, la potri desktop 1.8, scarichi il file zip e ti ritrovi, una volta che hai scaricato il file zip, ti ritrovi questa cartella con tutte queste cose e l'applicativo potri desktop.bat, se fai doppio clic ti si apre la finestra di potri viewer, eccolo qua, potri viewer, che è vuota. La finestra di potri viewer adesso aspetta semplicemente che tu gli carichi dentro con un drag and drop un file che vuoi vedere. Le opzioni sono due, se hai già un file che è stato in qualche modo convertito con potri converter, puoi caricare il file, eccolo qui, il file json dentro e lui ti carica la nuvola di punti. Ti carica il file json che si va a riprendere il file bin della nuvola di punti. ma questa è la cosa interessante per cui forse puoi anche evitare di fare la conversione. Se tu hai un file LAS, come quello che abbiamo noi, questa nuvola.LAS, se lanci potri desktop, che quando lo lanci è vuoto, prendi la nuvola, il file LAS, vorrei farti vedere una cosa però prima perché in qualche modo questa finestra sta oscurando il messaggio che ti dà potri desktop, potri desktop quando gli stai facendo il drag and drop, prima di fare il drop, dopo il drag e prima del drop. lui ti dice, non ho ancora mollato, dice convert and or load point cloud. Quindi puoi lasciare qui dei file LAS o anche LAS in modo tale che il desktop li converta e ti permetta di vedere la nuvola di punti nello spazio di potri. Oppure puoi scaricare, puoi caricare, puoi rilasciare qua dentro delle cartelle da convertire oppure portare dentro dei file JSON che è quello che ho fatto appena adesso una volta che tu abbia già fatto, in caso tu avessi già fatto la conversione. Per cui io qua ci porto la nuvola di punti e lui mi sta dicendo, ok, guarda, la target directory è questa. Ora la cambio perché altrimenti forse mi fa casino con questa cartella che esiste già, la chiamo conv. Il file di input è questo. Puoi scegliere quale converter utilizzare, se il converter 1.7, la vecchia versione, oppure la nuova versione 2.0, noi stiamo usando, ti ho fatto vedere la 2.1, però il motore è al solito, che praticamente riscrive a un nuovo approccio alla conversione e ti genera 3 file invece che un sacco di file. Start conversion. È chiaro che questa nuvola è piccolissima, la conversione è stata velocissima e qua ti dà un report della conversione, o meglio, ti dice, ok, la conversione è finita e ho caricato la nuvola di punti. Se la nuvola di punti è grossa, aspettati di aspettare, di dover aspettare parecchio tempo. Una volta che questa cosa è finita, hai la nuvola di punti nel formato legato, leggibile da Potri, dentro Potri Desktop, Potri Viewer Desktop e ci puoi fare tutto quello che si fa normalmente con la nuvola di punti dentro Potri. Quindi posso misurare le coordinate, questa è una nuvola già referenziata, posso prendere le distanze, posso misurare dei dislivelli tra le balze, posso tracciare dei profili e quindi andare a vedere qua sotto Show 2D Profile. Posso fare tutto quello che si può fare con Potri Viewer, di cui ne ho parlato in uno dei video che ti ho citato precedentemente, con il vantaggio che non devi avere una connessione web, quindi devi avere chiaramente scaricato la nuvola di punti, o il file LAS, o il file già convertito, quindi devi avercelo sul tuo computer, ma non devi avere una conversione web, non ti serve un browser, fa tutto quanto il Potri Desktop. Questa secondo me è una cosa potentissima, quindi se devi condividere una nuvola di punti con qualcuno che vuoi che la veda, puoi semplicemente mandargli il file LAS volendo e il Potri Desktop, spiegandogli semplicemente che deve lanciare Potri Desktop e trascinare il file LAS nell'area inizialmente vuota di Potri Desktop. Qual è lo svantaggio di questa cosa utilizzando un file LAS? Che ogni volta che tu chiudi Potri Desktop ti sei perso la nuvola di punti all'interno del mondo del Potri Viewer, non c'è più. Una volta che la rilanci non puoi salvare un progetto in Potri. Credo che tu non possa salvare un progetto in Potri, per ora no, magari mi sbaglio, comunque che io sappia no. Quindi devi riportare il file nell'area di lavoro di Potri o meglio all'interno di Potri Viewer barra Desktop e se si tratta di un file convertito il file JSON è immediato. Se invece si tratta di una nuvola di punti e la nuvola di punti in formato LAS è piuttosto pesante devi aspettare che lui rifaccia la conversione e ti creerà un'altra cartella e devi aspettare un po' di tempo. Però mentre ti parlo mi è venuta in mente una cosa sono un po' un cretino perché ci devo pensare prima se hai già fatto una conversione quindi se hai caricato una nuvola di punti dentro Potri Desktop partendo dal file LAS ti ritrovi e lui te l'ha messa qua aspetta che ci arrivo ti ritrovi la cartella che lui ti ha convertito e quindi ti ritrovi il file JSON già pronto per essere utilizzato. Quindi ho detto una belinata se hai utilizzato un file LAS puoi andare molto più velocemente una volta che hai chiuso Potri l'hai riaperto semplicemente andando a ripescare la cartella che lui ti ha creato quindi stai attento al momento iniziale in cui lui ti sta chiedendo dove metterà le cartelle dove metterà i file e in che posto il computer le metterà perché puoi andare semplicemente a riprenderti il file JSON lo porti dentro e non devi aspettare nessun'altra conversione. potevo evitare di farti perdere il tempo nei miei sproloqui era abbastanza evidente. Comunque questo è Potri Desktop e ci tenevo a farti vedere Potri Desktop perché secondo me è molto interessante è veramente molto interessante ti evita di avere adesso torno su di me ti evita di avere spazi web se non ce li hai è chiaro che forse avere una connessione web uno spazio web e dare una nuvola di punti tramite link è forse più immediato da un punto di vista della fruizione ovunque la persona che riceve questo link è potrebbe essere ad esempio anche in viaggio o utilizzando uno smartphone o un tablet però in questo modo hai uno strumento in più per supportare la condivisione del dato teridimensionale che è Potri Desktop appoggiato in questo caso a Potri Converter anche se al suo interno c'è il 2.1 e ancora la vecchia versione 1.7 e permette a questa persona o a queste persone di caricare la nuvola di punti in questo viewer che è veramente semplicissimo neanche si deve installare avendo a disposizione questo dato e potendolo indagare da un punto di vista qualitativo e quantitativo a mio avviso è molto interessante io la trovo una cosa molto interessante spero che possa essere utile ti chiedo scusa se la parte legata alla utilizzo di Potri Converter con riga di comando dei comandi è stata molto un po' così un po' bovina e me ne rendo conto se vuoi sentiamoci se hai bisogno di qualche delucidazione scrivimi mi trovi su Telegram Paolo Corradeghini se posso ti aiuto molto volentieri ma io non sono un grande smanettone però spero che questo questo video sia stato in qualche modo utile per per darti degli spunti su quello che puoi utilizzare per condividere il dato tridimensionale la condivisione di questi dati è sempre abbastanza delicata tante persone che ricevono questi dati si spaventano e non ne vogliono più sapere perché non riescono a gestire grandi mole di dati perché non hanno gli strumenti e non è neanche giusto che abbiano gli strumenti per farlo siamo noi che creiamo questi dati a poter mettere in condizione le persone di poterli gestire in maniera agevole senza doversi sbattere più di tanto Potri Desktop secondo me è uno di questi strumenti chiaro che non possiamo vomitare nuvoli di punti da un miliardo di punti e sperare che la conversione avvenga in tempi brevi per cui diamo un occhio anche alla dimensione del file che stiamo condividendo però spero che possa essere utile se pensi che possa essere utile anche a qualcun altro o se pensi che possa essere utile a qualche tuo cliente a cui vuoi dare una nuvola di punti attraverso questo sistema puoi condividergli questo video magari di saltare la parte legata alla conversione che ti ho detto prima che non è un gran che a me fa molto piacere 3dmetrica.it è il posto dove mi trovi online telegram.me e slash 3dmetrica è il canale telegram di 3dmetrica se poi pensi che valga la pena supportare questi video la produzione di questi video e di questi contenuti 3dmetrica.it slash supporta e puoi arrivare a una pagina dove ci sono un po' di informazioni per aderire a una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Patreon e diventare un finanziatore unirti ai finanziatori che ci sono già e che permettono a tutti quanti di fruire gratuitamente di questi contenuti che sono loro che mi permettono di fare questi contenuti chi finanza progetto è un produttore di 3dmetrica se vuoi è assolutamente libero grazie per aver visto questo video ti do l'appuntamento al prossimo ti saluto fortissimo ciao da Paolo Corradeghini grazie a tutti